Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione pomerigliera dell'informazione su Calabria News 24. Una ufficina abusiva è stata scoperta dalle fiamme gialle crotonesi. Vediamo i dettagli nel servizio. La Guardia di Finanza di Crotone ha scoperto una persona operante nel settore delle riparazioni meccaniche in totale assenza di autorizzazioni. L'esercente, infatti, oltre non essere titolare di partita IVA, non risultava neanche scritto alla Camera di Commercio. L'attività veniva esercitata in un magazzino al pieno terra di un fabbricato di proprietà del soggetto interessato ed era attrezzato con mezzi donne all'esercizio di riparazioni di mezzi meccanici. I finanzieri calabresi della Compagnia della Guardia di Finanza, oltre ai rilievi di carattere fiscale, hanno proceduto al sequestro amministrativo, ai fini della confisca, della strumentazione rinvenuta all'interno dei locali. A carico dell'autore dell'illecito è stata elevata una violazione amministrativa che prevede una sanzione fino a 15.000 euro. Dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza in Calabria, incrociando i dati acquisiti delle banche date in uso al corpo con gli indici di capacità contributiva rilevati attraverso un attento controllo economico del territorio, sono stati scoperti 45 soggetti economici totalmente sconosciuti al fisco. I controlli fiscali scaturiti hanno consentito di costatare oltre un milione e mezzo di euro, sottratti a tassazioni per i quali si provvederà al recupero delle imposte dovute. A Villa San Giovanni un 69enne è stato denunciato per ricettazione, maltrattamento e uccisioni di animali e violazione della legge sulla caccia. Gli approfondimenti nel servizio. I carabinieri forestali di San Roberto, dipendenti dalla gruppo di Reggio Calabria, hanno condotto un'operazione anti-bracconaggio a Villa San Giovanni, sequestrando 570 esemplari di avefauna selvatica protetta ed 11 gabbie, denunciando una 69enne per ricettazione, maltrattamento ed uccisione di animali e violazione della legge sulla caccia. I carabinieri, allertati dai volontari dell'Associazione Guardie per l'Ambiente di Reggio Calabria, nel corso di un controllo in un casolare di campagna, hanno accertato che l'uomo, già noto per fatti specifici, deteneva illegalmente 570 esemplari di avefauna selvatica protetta. Si tratta in particolare di esemplari di cardellini, verdoni e fringuelli, detenuti in 11 gabbie non idonee alle loro caratteristiche. 20 erano morti. I rimanenti 550 esemplari sono stati liberati. La vendita degli esemplari avrebbe potuto fruttare un profitto di circa 20.000 euro. E ci spostiamo a Reggio Calabria perché su disposizione del Ministro degli Interni, Marco Minniti, anche presso la Prefettura della Città sullo Stretto, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, dove sono state valutate le misure di sicurezza da disporre e pianificare in occasione di manifestazioni pubbliche. Il servizio è di Graziano Tomarchio. Nuova riunione ieri in Prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha infatti indetto una riunione straordinaria dell'organismo per un ulteriore approfondimento delle misure di sicurezza da disporre e pianificare in occasione di manifestazioni pubbliche e nei principali luoghi di aggregazione e di intrattenimento di richiamo turistico. Tali manifestazioni, dice il prefetto, non solo dunque vanno liberamente e regolarmente fruite, ma tutti i cittadini e le famiglie hanno il diritto di partecivarvi in condizioni di assoluta sicurezza e serenità. E questo è l'obiettivo della seduta, svoltasi alla presenza non solo dei responsabili delle forze di polizia e del comandante del raggruppamento dell'esercito Calabria e Sicilia, ma anche del dottor Gaetano Paci, procuratore aggiunto della Repubblica, del sindaco della città metropolitana, dei sindaci e dei commissari straordinari della provincia, a partire dai comuni più densamente popolati, nonché dei rappresentanti dei vigili del fuoco. Il criterio che ha guidato la discussione è stato quello della prevenzione, il cui principale colorario, specie in occasione di eventi che attraggono un numero elevato di ospiti, attiene al concetto di prefiltraggio, ovvero di aree o ambiti di rispetto in cui effettuare controlli mirati. Sarà pertanto valutata la necessità di predisposizione di accessi e varchi controllati e vigilati nelle aree di vita agli eventi e ai principali luoghi di aggregazione pubblica, anche composti di controllo mobili, di posizionamento di barriere e antisfondamento, nonché di individuazione di zone rosse dove non sia possibile transitare o parcheggiare. Il prefetto inoltre ha sollecitato alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo perché mantenga una rafforzata, costante e diretta interlocuzione con gli amministratori locali e con i tecnici comunali incaricati dell'organizzazione degli eventi, allo scopo di favorire la più agevole interpretazione ed applicazione delle direttive. La Prefettura assicurerà al riguardo la massima attenzione, allo scopo di garantire che siano opportunamente coniugate le esigenze di qualità della vita dei cittadini con quella della sicurezza e della piena conformità degli eventi e degli ambienti di aggregazione pubblica alle normative del settore. Tragedia sfiorata a Gambari ed Aspromonte in provincia di Reggio Calabria con un pullman pieno di scout in fiamme, andato in fiamme. Gli approfondimenti nel servizio che ci propone il nostro inviato Graziano Tomarchio. Brutta disavventura per un gruppo di ragazzi scout che si apprestavano a lasciare l'Aspromonte. Il pullman di linea dell'Atam su cui viaggiavano, assieme ad altri passeggeri, ha improvvisamente preso fuoco, a quanto pare, per cause accidentali dovute ad un'avaria al motore. Nessuna grave conseguenza per i giovani, 23 e tutti provenienti da Genova e gli altri sei occupanti, così come per l'autista, il quale appena accortosi del principio di incendio, ha fermato il mezzo, facendo scendere immediatamente tutti i passeggeri sul posto, sono subito intervenuti i carabinieri della stazione di Santo Stefano e una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale. Tutti salvi i ragazzi, così come l'autista e gli altri passeggeri nei confronti dei quali i militari dell'arma hanno prestato subito assistenza, mettendoli in sicurezza e preservandone l'incolumità mentre i vigili del fuoco procedevano a domare l'incendio. Per il mezzo, però, non c'è stato nulla da fare. Le fiamme lo hanno avvolto, distruggendolo completamente. L'immediato intervento delle forze dell'ordine ha evitato inoltre il disagio alla circolazione stradale, comunque garantita. Gli scout, appartenenti alle clane del gruppo Agessi Genova 3, ieri mattina, dopo aver lasciato Gambarie, si stavano recando a Reggio per prestare il proprio servizio e conoscere l'esperienza regina legata all'accoglienza nei confronti dei minori migranti ospiti di Casanoin dallo scorso 16 agosto, tra l'altro proprio in Aspromonte, per una vacanza educativa che li vede impegnati in diverse attività, escursione alle cascate, visita al parco della biodiversità e tante altre iniziative che vedono la partecipazione. Di gruppi scout, circa 200 clan in soli due mesi, provenienti da tutta Italia e non solo della Calabria. Come appunto detto, i ragazzi del clan di Genova, a supporto dei quali si sono recati i propri volontari di Casa Aguin, i quali si sono immediatamente adoperati per recuperarli con il loro pulmino e a ospitarli proprio presso la struttura di Mannoli in cui si sta tenendo il soggiorno educativo. L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello è lo spettacolo andato in scena nel castello di Savuto Accleto in provincia di Cosenza, proposta dalla compagnia La Linea Sottile nell'adattamento curato dal regista Massimo Costabile che abbiamo ascoltato. Cioè, noi di solito abbiamo toccato un po' di autori contemporanei, però questo Pirandello che è un'opera oltretutto di cento anni fa è secondo me molto attuale, innanzitutto perché gioca molto anche sul grottesco, sull'ironia e quindi è molto diverso dalle opere che conosciamo di solito di Pirandello. E' questo lavoro sulla maschera, sullo smascheramento. Infatti, diciamo, il testo è questo gioco fra questi tre personaggi, queste tre maschere. L'uomo, che è questo professor Paolino, che in effetti è sempre un uomo integerrimo, ma in effetti poi diventa amante della signora Perella, che in quel caso diventa la virtù, però che nasconde anche lei sotto la pudicizia questo tradimento con il professore. Poi c'è la bestia, che è questo marito della signora Perella, che in effetti trascura la moglie e quindi c'è un intreccio poi all'interno che non vado a svelare. Però ecco, il gioco, io ho voluto fare un adattamento molto particolare. Ho tagliato tutta una serie di personaggi perché è una cosa che a me piace. Cerco di lavorare sui personaggi principali, quindi puntare tutto su di loro. Infatti, invece di otto, mi sembra, personaggi, sono quattro personaggi. Tre personaggi principali e poi uno di supporto. E infine chiudiamo questa edizione con una notizia di sport, perché presso il Parco Commerciale Le Fontane a Catanzaro è stata presentata la nuova formazione giallorossa insieme allo staff tecnico e ai nuovi dirigenti. Una sorpresa arricchisce la presentazione ufficiale del Catanzaro. Sul palco allestito presso il Parco Commerciale Le Fontane sfilano ad uno ad uno tutti i futuri protagonisti della prossima stagione. E fra loro c'è anche Daniel Onescu, centrocampista rumeno, classe 93, proveniente dalla Fidelisandria. Un ulteriore regalo alla tifoseria da parte della società presieduta da Floriano Noto. Questa sera abbiamo voluto regalare una festa ai tifosi giallorossi. Chiaramente la festa coincide anche con la presentazione ufficiale della squadra. Siamo quasi arrivati alla chiusura del mercato, diciamo, a un'attività costo pure e siamo a buon punto. Stasera ci sarà anche una sorpresa di un acquisto che è arrivato giusto da poco e annunceremo direttamente al pubblico. dal palco siamo tutti emozionati e ci auguriamo che questa gioia possa continuare durante l'anno e durante il campionato. Sul palco, prima dell'arrivo della squadra, buona musica con la Vasco Rock Show e tante risate con Piero Procopio ed Enzo Colacini. A condurre Simona Palai e Luigi Grandinetti. Poi arrivano i giallorossi ed il pubblico si accende intonando cori ed inneggiando ai propri beniamini. Si torna a respirare aria di calcio a Catanzaro a pochi giorni dall'inizio della stagione. Sabato sera comincia a diventare la cosa seria, nel senso che ci sono i tre punti in palio quindi abbiamo un po' parlato col mister e con il direttore sportivo per cui siamo pronti al debutto e la squadra, chiaramente capite bene che siamo battiti in grande ritardo anche come preparazione atletica. Questa settimana faranno una preparazione a top e ci auguriamo che tutto vada bene, anzi, sicuramente cerchiamo di vincere. Fra i tifosi che hanno risposto in massa all'invito della società anche tanti giovanissimi e proprio a loro è rivolto il messaggio della Presidente Noto. Il messaggio che dico è questo, ho visto parecchi ragazzini, parecchi giovani e questo è un grande entusiasmo perché i giovani sono la continuità di tutto, la continuità della società civile ma anche la continuità della società sportiva, in questo caso del Catanzaro Calcio. Quindi fate avvicinare i ragazzi, fate avvicinare i giovani al calcio, fate avvicinare ai giallorossi. Mi raccomando, staciti e medicini! Bene, anche per questa seconda edizione è davvero tutto con l'informazione su Calabria News 24. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per aver guardato il video.